Allora, sul numero odierno, oggi è martedì, di La Verità c'è un ottimo articolo di Mario Giordano che riguarda una cosa che ci interessa in maniera particolare di sottolineare, perché questa gente con cui noi abbiamo a che fare, questi vecchi esponenti del lurido catto comunismo vivono di menzogne, sono gli autentici sagrestani seminaristi dei preti, perché raccontano cazzate ma le raccontano infantilmente, hanno un atteggiamento infantile, fideistico, fideistico, infantile, perché lui ha rubato la marmellata, no no, l'hai rubata tu, tu hai messo un dito nel culo alla mamma eccetera eccetera. E la cosa è incredibile, questa gente qua non la fai tacere che quando non gli hai tagliato la lingua, ma tagliata con le forbici e abbattata appuntite. Allora cosa è uscito fuori? È uscito fuori che, vedi caso, uno dei finanziatori di questo catto comunismo, chiaro, è un grosso finanziere ebreo, non può che essere in combutta, che in combutta col papato, perché come noi abbiamo più volte dimostrato e ripresentato. No, ma bisogna dire che soprattutto in epoca antica, quella che è più rilevabile, che è più evidente, perché non avevano modo di mistificare più di tanto, molti dei papi della prima stagione fino al mille più o meno, erano ebrei proprio trapiantati dalla madrepatria Israele. Con nome cambiamo, questa è la legge per cui si cambiavano il nome. No, a volte anche con lo stesso nome, perché c'è stato un papa che ha iniziato questo procedimento, adesso non mi ricordo chi era, lo leggevo proprio qualche giorno fa, e appunto per questo, perché doveva nascondere qualche cosa, e poi da lì tutti quanti hanno detto, vabbè, noi rinasciamo di nuovo, e quindi anche un altro nome. E Cristo che rinascendo rifà nascere anche loro, cambiandogli il nome, mi dice niente, mi coglioni, diceva questo. Allora, nell'attesa del meraviglioso scambio di figurine, è bella questa esemplificazione, oltre che di figuracce, ecco però che in queste ore sulla scena si afferma prepotente l'altro nome tutelare della sinistra, George Soros, noto giudio, assassino, delinquente. Condannato in due diversi stati in Indonesia, se per caso ci rimette il naso gli fanno la pelle, e nelle Filippine altrettanto. Se io fossi indonesiano manderei tre o quattro dei servizi segreti, come si è sempre fatto, come ha sempre fatto gli ebrei. Ti ricordi quando rapirono quel tecnico italiano che si chiamava Cervia, di cognome? Troppe ne hanno fatte, e poi lì gli fanno un trattamento, stile turco però, di quello di allontanamento uno per uno di alcune piccole parti della pelle, a cominciare dalla pelle del prepuzio, che non c'ha. Il miliardario speculatore è intervenuto al festival dell'economia di Trento, noto luogo di ritrovo della chiacchieria progressista, e ha accusato l'attuale governo di essere legato a Mosca. Ma questo è tipico di questo agente, l'hanno sempre fatto, ecco il commento che voglio fare io, l'hanno sempre fatto. Se tu vedi l'elenco delle accuse che questa gente ha sempre fatto, nei confronti degli altri, ma le accuse che sono stati capaci a fare contro Mussolini, quando da un momento all'altro, siccome è entrato in guerra, tutti a accusare Mussolini, fino il giorno prima lo incensavano tutti, a cominciare da Churchill. Il giorno dopo ne hanno detto di pezzi e di ricorda. Ricordiamoci che Churchill deriva anche lui da una cazzata ebraica. Una grande cazzata. Allora, questo è accusato di essere legato a Mosca. Già all'epoca della rivoluzione inglese. Ah, certo, certo, è una grande cazzata. È una grande cazzata. questo grande, anche quest'altra chiacchiera, il grande statista. Il grande statista è quello che ha preso più legnate lui di Carlo in Francia. Il grande statista. E sono ancora lì a dire queste cazzate. Allora, lui che è stato il finanziatore, lui che ha finanziato le peggio cose, accusa. Ma noi se obiettivamente questo ragazzaccio fosse amico di Putin, come lo è stato e come continua a esserlo Berlusconi, a noi ci va benissimo. Cioè la nostra stima nei confronti di questo ragazzaccio si accrescerebbe. E di molto. Salvini è pagato da Putin. E i tuoi servitori, a incominciare dal Papa, e per finire al cretino Matteo Renzi, sono pagati da te. Palesemente, come essi stessi hanno riconosciuto. Non credo che il ragazzo abbia potuto pagare Martina, perché è talmente idiota e talmente stronzo che anche uno come Soros ha ritegno a mettere le mani nel portafoglio. Giusto? Cosa non provata e peraltro immediatamente smentita dal leader leghista. Non risulta nessun passaggio di denaro tra Mosca e Pontina. Mentre risulta un'infinità di passaggi di denaro dall'establishment che ha a capo oggi la puttanella Clinton e fino a questa marmaglia che ci ha comandato per una ventina d'anni. Al contrario, sono sicuri i finanziamenti di Soros a svariati politici del mondo, compresa Emma Bonino, che di recente, marzo 2018, se ne è pure vantata in diretta TV. Dopo aver detto ovviamente che l'Italia ha bisogno di essere invasa dagli immigrati, in perfetta applicazione del Soros pensiero. Ora è già abbastanza strano che uno speculatore come Soros che ha attentato alla vita stessa dell'Italia e di tanti italiani con i soldi che si è fregato in combuta con la massoneria e col capo della massoneria all'epoca, cioè l'uomo forte della massoneria all'epoca governatore della Banca d'Italia. I soldi che si è fregato quando ha fatto il famoso attacco contro la lira. Venga invitato a parlare al festival. Diciamolo pure chi era, no? Era il signor Ciampi. Ciampi. Eh, diciamolo, perché se no tu non l'hai detto chi era. Sì, vabbè, l'uomo forte della mazzoneria è sempre stato riconosciuto come Ciampi. Ed è ancora più singolare che dopo... Non a caso era di Livorno. Certamente. Anche la localizzazione ha la sua dimensione, la sua importanza. Non solo, ma grande amico del rabbinato Livornese. Non a caso, anche quello. E se no non l'avrebbero fatto diventare governatore della Banca d'Italia. Lui che non era nemmeno un economista, ma era laureato in lettere. In belle lettere. In bellissime lettere. Sai quelle lettere scritte? E poi siccome si è comportato bene, ha fatto perdere solo 92 mila miliardi in una sola notte. Quel figlio di puttana l'hanno giustamente premiato con la presidenza della Repubblica. Esattamente. Mi sembra ovvio, no? Tutti questi che diventano presidenti della Repubblica. Uno più fedente e infame dell'altro. Sono tutti premiati, pensiamo a Cossiga. Il quale giustamente non ha trovato Aldo Moro. E per premio, giustamente, l'hanno fatto lui. Non diciamo, perché ci è stato detto adesso, in un orecchio, proprio in questi giorni, per quale ragione hanno premiato l'attuale presidente della Repubblica. E beh, si può facilmente intuire. Va bene, proseguiamo. Ora è già abbastanza stato. No, anche perché sta continuando nella sua azione di distruzione dello Stato, dell'identità nazionale, delle risorse dello Stato, della libertà dello Stato, delle dimensioni dello Stato. Ha regalato pure 30 chilometri quadri alla Francia, tanto per dirne una un anno scorso, ed altre amenità analoghe. Farei una piscina nella quale far fare i bagni, giorno e notte, senza mai farli uscire. Lui e Macron, perché tutti e due al servizio di Rothschild. Ora è già abbastanza strano che uno speculatore come Soros, che ha tentato la vita stessa dell'Italia, venga invitato a parlare al festival, eccetera, eccetera. Ed è ancora più singolare che dopo aver finanziato partiti politici in tutto il mondo, dopo aver istigato rivolte e sedizioni... No, le rivolte colorate, tutte dovute a lui. Certo. Tutte. Tutte colorate sono tutti quei soldi di soldi. Anche gli orange di antica memoria, anche quelli. E poi soprattutto... Che uno si domanda da dove cazzo escono fuori tutti questi soldi. E sono i soldi che vengono direttamente da Israele, che passano attraverso di lui e lui li distribuisce. Dopo aver influenzato la stampa italiana, magari chiamandone i board delle sue società, i giornalisti più alla page, vedi Federico Fubini, si permetta di fare insinuazioni, non provate, contro il nostro ministro dell'interno. Ma prendiamo gli altri ministri dell'interno, elenchiamoli tutti quanti... E facciamone un bel put puri. Esattamente. E vediamo chi è che si discosta veramente da questa sequenza. Cominciando da Scelba e poi Mattarella. Esattamente. Da Scelba e Mattarella abbiamo avuto l'ira di Dio di mafiosi in questo regime. Ma è ancora più stupefacente che i nostri intelligò gli si mettono a ruota. Per capirlo basta leggere Repubblica. Soros, governo legato a Mosca. Titola in prima pagina a caratteri cubitali. E poi nell'editoriare di Andrea Bonanni spiega che la smentita di Salvini sui finanziamenti non basta. Ci vuole una voce più autorevole di quella del diretto interessato. Mi dite Repubblica del cazzo da dove vi vengono i soldi? Cioè da dove il vostro padrone piglia i soldi? Il vostro padrone che è diventato svizzero. Me lo dite? No, è svizzero perché è seguito da un mandato di cattura di condanna di due anni di carcere da scontare, senza condizionale. Quindi lui i soldi gli rimane... Il che vuol dire che già era stato condannato e passato per qualche reato penale e i tre anni se li era mangiati. No, poi si mette in cattura e insegna come devono fare i politici italiani e gli industriali italiani. E quello che per conto, diciamolo, della IBM ha distrutto... La Olivetti. Ricordiamo. La leader mondiale delle macchine da scrivere all'epoca. ...e i pezzi appesi nelle vecchie... Te l'ho detto che io dovevo andare a Ivrea? Sì. Te l'avevo raccontata? E i pezzi appiccicati... Per fortuna che non ci sono andato. Facevi la fine di quegli ingegneri che stavano lì tutto il giorno a non fare niente e che per fortuna hanno vinto la causa, no? Gli avevano fatto il mobbing. Ci vuole una voce più autorevole di quella del diretto interessato. E parla minacciosa di un cordone sanitario creato attorno al governo per volontà di ambienti che la sanno più lunga di Soros e di cui il bilanerdiario si fosse fatto portavoce. Non male, eh? Cordone sanitario e ambienti che la sanno più lunga. Ma scusate, voi non eravate quelli che si battevano per difendere le istituzioni? Questo è un bellissimo articolo. Ma che? Perché se nell'istituzione ci sono i barbari leghisti bisogna solo attaccarli. E tutto serve, tutto fa brodo. Fa brodo persino ferro. Ferro, il noto omosessuale che ha fatto un'esternazione. Tiziano Ferro. Il cantante Ferro. Ah, Tiziano Ferro. Sì, ha fatto un'esternazione. I cantanti? Il cantante Ferro ha fatto un'esternazione dicendo che è un omosessuale. Beh, e allora che ci frega noi? Se l'è presa col governo. E allora? Eh, allora se l'è preso col governo. Io gli taglierei la lingua. Perché è esternato? A parte il fatto che è come Chansonnier fa pena, secondo me. Ma che va bene, tutto fa brodo. Fa brodo persino il ferro, nel senso di Tiziano, diventato il nuovo eroe nazionale per aver attaccato il mio ministro della famiglia, Lorenzo Fontana, che così la prossima volta impara a non dire più quelle cose stravaganti, come per esempio che un bimbo deve avere una mamma e un papà. Ma allora, siccome tu sei un frocio, io ti taglio i coglioni e... E ti metto un tappo al culo. E ti metto un tappo così non lo puoi più nemmeno prendere, capito? E poi, sai, una volta... Senti, io mi sono sempre domandato, ma i froci sono attivi e passivi? Certo. Oppure sono solo attivi e solo passivi? No, no, no. No, in gira di massima il frocio è attivo e passivo. A meno che non ci sia qualcuno che sia un gran messier. Era, ad esempio, André Gide era un gran messier. Lui inchiappettava solo. E in gira di massimo i preti sono tutti dei gran messier. Ah. Sono tutti attivi, coi bambinelli. Eh, giusto, giusto. Capito? Coi bambinelli. Iperattivi coi bambinelli. No, me lo sono sempre domandato. E' una pericoligativa. Sinite parvulos venire ad me. Lo dicono anche in latino. Più di così cosa devono dire? E adesso vi leggo qualcosina di altro. Perché noi siamo amanti della politica vera e qui c'è un bellissimo articolo che riguarda un grande uomo politico. E' stato scritto. No, chi paga i viaggi del signor Matteo? I viaggi del signor Matteo paga solo. Qualche paga. Oppure qualche suo amichetto vescovo. Ricordiamoci che Matteo viene dall'ambiente della Gesci. E non si sa mai lì le amicizie che incontri. Capito? Caro Matteo. Allora, il seminatista spione che tradì Napoleone e ne provocò il trollo. Eccolo qua. Ah, Fouché. Ne ha parlato. Era seminerista, non me lo ricordavo. Ma tu pensi che un delinquente così non sia stato un prete? Noi vogliamo ricordare. Ah, giustamente lui ha fraffatto la scelta quando la Convenzione ha deciso se togliere... No, lui non aveva preso i voti a dire. Ah, ecco. Quindi non era un abate. Faceva parte della preteria come tanti altri. Era un pretonsolo come tantissimi altri della Rivoluzione Francese. No, perché tanti hanno abbandonato la missione di prete per diventare... Lealisti con la Convenzione. E gli altri venivano chiamati preti refrattari. Refrattari, giustamente. Quelli che rinunciavano alle prebende. E rischiavano anche un piccolo taglio della testa. Eh sì. Ma magari così un allargamento della tonsura. Dice sai perché i preti hanno la tonsura? Non l'ho mai saputo, no. Non sai perché i preti hanno la chierica? Per baciarsi quando si inculano. Sai di una trivialità proprio boccacesca. Boccacesca. Questa trivialità piace alle donne. Allora, io che poi ci tengo sempre, capito, a piacere alle donne. Allora, questo articolo è stato scritto da una storica che ha scritto un libro che io ho acquistato, è veramente interessante, dedicato ai due personaggi, a Fouché e a Talleyrand. E questi sono, come dire, estratti. La storica che si chiama... Beh, Talleyrand non era, diciamo... Era cardinale. Anche Talleyrand. Talleyrand era che era cardinale. Ah, è vero, era cardinale Talleyrand. Talleyrand, no, mi confondevo con Necker. Allora... Cioè, come ruolo, ecco. Talleyrand è figlia di un boiardo dello Stato che si chiamava appunto Necci e che ebbe uno strano incidente stradale. Io però lessi, e lo devo dire perché mi piace moltissimo, la biografia di Fouché perché è affascinante. Beh, sono un personaggio importante a livello... Ma è uno dei più importanti nella storia. Certo. Non c'è nessuno che è stato più tradittore di lui. Io lessi la biografia del famoso Emil Ludwig, quello che scrisse anche quella... Ma Ludwig era tedesco? Tedesco ebreo. Quello che fece i famosi colloqui con Mussolini. Sì, sì, sì. Un'opera che ha avuto un grande successo. Sì, come no, me lo ricordo, me lo ricordo. Allora, che cosa voglio dire? Due, tre cosette, queste le voglio leggere perché c'è anche la modalità di essere traditore. Una dignità nel tradimento, diciamo, una coerenza, ecco, come minimo. Ma è tanto vero che all'isola d'Elba, scusate... Sant'Elena. A Sant'Elena, Napoleone fece una dichiarazione eccezionale. Ma a Sant'Elena, lui c'aveva tutto il suo seguito come all'Elba o no? Tutti quelli che l'hanno voluto seguire. Ah, ok. Quindi c'aveva la corte e tutto. C'aveva la corte di persone. Poi c'è stato un anno di rivieni, perché lui ha campato parecchio lì. Mica tanto, sei anni. Beh, manco, cinque anni e mezzo. Stavamo sei anni in un'isola abbandonata. È tanto. Eh certo, vabbè, comunque... In questi sei anni, visti che il viaggio durava tre o quattro mesi... Eh, era lunga arrivare laggiù, eh. C'era della gente che andava, stava magari un anno, un anno e mezzo, poi tornava in Francia. Comunque lui disse, nelle sue famose memorie che furono raccolte dal famoso Las Casas, e che io ho, perché il memoriale di Sant'Elena è bellissimo, Napoleone dice, ho conosciuto un solo vero traditore, Fouché. E ha ragione, perché Fouché è il vero traditore. Questi test di cazzo di cattocomunisti, mezzo preti, mezzo seminaristi, mezzo prendiculo, capito? Non sono nemmeno dall'altezza del tradimento. E mi fa piacere che qui, sulla Verità, abbiano scritto questo articolo, perché è molto bello. Perché quello ne ha pensati di tutti i colori, ma talmente abile nel tradimento, che è diventato... Ma in che cosa è consistito il principale, diciamo, filone del tradimento di Fouché? Lui tradiva regolarmente, per principio. Ho capito, ma perché? Perché lo faceva? Per una convinzione, per una forma esterica. Lui fu fidanzato per un certo periodo con la sorella di Robespierre. Poi lui ha avuto una questione piuttosto grossa, per cui lui è stato per qualche tempo... Ah, l'hai letto quello di ieri del generale? E' interessante. Abbiamo avuto delle riveliazioni. Cari amici, andate sul nostro video dedicato alla denuncia che abbiamo fatto contro il signor Mattarella e troverete una esternazione di un alto calibro dei carabinieri che ci dà perfettamente ragione. Vi divertirete. Allora, ritornando a Fouché, Fouché ha passato un momentaccio e lui aveva due figli e li sono morti tutti e due. Proprio di... Quindi poi dopo si è sposato, dopo che ha lasciato la sorella di Robespierre? Sì, lui ha lasciato la sorella, si è stato finanzato per qualche tempo, breve tempo. Poi si è sposato e c'è avuto due figli? Lui ha avuto due figli. Ma quindi... Magari non ne ero nemmeno sposato. E in quel momentaccio che lui ha passato... Ma che era? Tornò già alla fine della rivoluzione? No, 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 assolutamente. No, no, era ancora vivo Robespierre. Quindi prima del 93, insomma? Sì. E lì lui ha elaborato un grande odio nei confronti di Robespierre. Perché? Perché? Non ricordo più qual era la ragione. Si sono trovati in un grosso scontro. Ma lì, nella convenzione, dice? Lui è stato immaginato, non ricordo bene come, ma insomma... E per questa immaginazione lui è rimasto senza soldi, ha passato un momentaccio e i due figli sono morti di denutrizione. Accidenti! Sì. Come Marx? Sì, sì. Uguale. Un figlio di puttana come Marx, ne più ne meno. Ma Marx non c'aveva... Allora, c'è un bellissimo libro intitolato... No, perché uno dei figli di Marx, in realtà, è di Engels, lo sapevi? Ho tradotto, è quello che avevi i sordi. No, è il bello che si scombiavano le mogli. Sì. Allora, Marx, ci sono due libri interessanti. Uno è di Malaparte, intitolato Il buon uomo Lenin. E un altro di Indro Montanelli, Il buon uomo Carlo Marx. Dove ci sono tutte queste storie, questi retroscena, questi... Di puttanaggine, diciamo. Questi pettegolezzi, eccetera. Allora, detto questo, lui ha incominciato con l'odiare Robespierre. Ed è stato il fautore della caduta, anche... Magari l'ha fatto uccidere anche lui. Soprattutto, tanto è vero che lui disse... Tanto è vero che lui disse... Io voglio leggerlo perché è interessante. Ecco, nel 1794, però, si apre la sua lotta con Robespierre. Il pontefice... Ah, sì, giusto, è morto nel 94 Robespierre, giusto. Ma lui ha incominciato nel 94, arriva fino a Termidoro. Ah. Il 94, da gennaio a Termidoro. Termidoro, adesso sei mesi. Nel 1794, però, si apre la sua lotta con Robespierre, il pontefice massimo della rivoluzione. L'incorruttibile è decisa a imporre la dittatura della virtù e ha creato il Comitato di Salute Pubblica che lo sbarazza di parecchi rivali politici. Inoltre ha lanciato il culto dell'essere supremo che deve sostituire il cattolicesimo. Per lui, Fouché è un uomo pericoloso che oltretutto detesta perché ne diffida e aveva ragione. La battaglia sembrerebbe impari, visto il potere dell'incorruttibile che, palesemente, ha destinato l'altro alla ghigliottina. L'aveva già programmata. Nelle situazioni estreme, però, l'ex seminarista dà il meglio e infatti tesse le tenebrose trame che porteranno a Termidoro convincendo i deputati che è bene sbarizzarsi del recorso Tu dici il 18 Termidoro? Sì. Termidoro si chiama... No, quello è Brumaio. Ah, il 18 Brumaio. Il 1799. Sì, sì, sì. Il 18 Brumaio è quando Napoleone si è in possesso del comitato dei consoli e praticamente diventa dittatore. Lui era console pure lui, no? Sì, sì, primo consolo. Era primo consolo. Diventa dittatore con l'aiuto del fratello Giuseppe. Fa il push di Stato. Con l'aiuto del fratello Giuseppe e con l'aiuto dei suoi granatieri. Commenterà anni dopo il buon Fouché che sarebbe... Allora, commenterà anni dopo Robespierre diceva che sarebbe dovuta cadere la mia testa la sua testa o la mia è caduta la sua. Morto Maximilien nel luglio 1794 tutto cambia. Si apre il direttorio che è l'opposto del governo della virtù. Dopo qualche anno di eclisse il direttore Paul Barat chiama al suo fianco Fouché. Non a caso lì c'è l'influenza dei Rothschild. Dei Rothschild e di Santa Madre Chiesa. Certo, è certo. Ti pare che la chiesa si faceva togliere da sotto il culo il sistema di controllo del potere. Ma Barat era un prete, ricordiamoci. E lo fa ascendere a ruolo di ministro di polizia. Quindi è Barat che capendo a fondo lo spirito del personaggio dice a questo punto... A te ti metto a fare il mestiere tuo. Perché io non voglio fare la fine di Robespierre. Ti metto a fare il mestiere tuo. Sì, tanto che fai il primo... È la stessa ragione per cui in Italia c'è stata una sequenza di ministri degli interni che vedi caso erano tutti siciliani. Devo aggiungere qualcosa? Non aggiungere. Basta. E lo fa ascendere al ruolo di ministro della polizia. È stato Barat. L'antico terrorista diventa così un conservatore dei più severi che inneggia l'ordine e fa chiudere il circolo di Giacobini da lui in precedenza presieduto. Ah, ecco. Lui ha fatto chiudere il circolo. Certamente. Perché sapeva bene a che avrebbe potuto portare. Eccetto. I Giacobini ci sono sempre stati perché hanno ricicciato anche durante la Comune di Parigi. Grazie a un talento... No, ricordiamo la Comune di Parigi del 1871. Esattamente. Quindi 80 anni dopo. Tre generazioni... quasi tre generazioni dopo. I Giacobini sono rimasti come cultura fondamentale. Anch'io sarei un Giacobino. Anzi, hanno accusato i fascisti... Un montagnardo? Che è Giacobino? I fascisti Giacobini. Quegli Giacobini sapevano quello che facevano. Hanno accusato i fascisti repubblicani di essere Giacobini. Per cui a me mi sta bene. Va bene. Grazie a un talento davvero peculiare mette quindi su una macchina informativa espionistica straordinaria che controlla ogni cosa e ogni persona in Francia. Come invece i ministri dell'interno siciliani controllano ogni cosa in Sicilia. Perché basta controllare la Sicilia per controllare tutto il resto d'Italia. Pochi l'hanno capito. Forse il generale dalla Chiesa. Anche il generale che ci ha scritto quel intervento ha capito tutto. Ha capito tutto. Un giorno dirà io e il ministero della polizia siamo una cosa sola. L'incontro più folgorante della sua vita però è quello con il giovane generale Napoleone. Reduci prima. Solo quando è generale l'ho conosciuto. Era amico di Robespierre. C'è parte del giro pure lui, Napoleone. E' l'incontro tra i due. Voi che Napoleone conoscesse che era Fouché. Eh, ma pure Fouché. Ma se conoscevano tutti era un paesaggio. E' certo. La Francia di allora, la Parigi di allora. E' 30.000 abitanti, cioè 50.000 abitanti. Cioè la Francia coincideva con Parigi. In Parigi era un paesaggio. Reduci prima delle campagne d'Italia e poi della spedizione. In tutta Francia c'erano 25 milioni di persone. Quindi a Parigi volendo esagerare No, era ultra abitanti. 150.000 abitanti. Era veramente la grande capitale. 150.000 abitanti. Cioè aveva, sì, ecco. Poi un po' di tessere antagliate con 50.000 in meno. Vabbè. Per ridurre ovviamente l'appetito di certe persone. No, perché Versailles era campagna profonda per esempio. Certamente. E quindi era almeno 10 km dalla città. a piedi. A piedi. Fusce ne intuisce il genio. È lì la grandezza del personaggio che capisce che Napoleone vale la pena di servirlo. Fusce ne intuisce il genio e si mette a sua disposizione non in maniera attiva certo ma con il silenzio e l'apparente disattenzione rispetto al colpo di stato che si va preparando. Tu sei finto che non sa niente. Non ha saputo nulla. Come è capitato a tale Cosiga che all'epoca era Presidente del Consiglio dei Ministri o sbaglio? Sì, ma Cosiga era 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 anche quello che aveva restaurato e modificato i servizi segreti nel 1964 da giovane laureato non si sa come perché era cugino di appunto noi lo sappiamo ma la gente si dovrebbe domandare come cazzo fa un ragazzetto di 28-30 anni ad andare a mettere in piedi il nuovo sistema dei servizi per conto di segno per conto di segno oltretutto al quale segni venne un infartone dopo aver utile utilissimo dopo aver dopo aver visticiato con Cosiga? no con chi? con Aldo Moro ah è vero nella vita tutto torno vero Aldo Moro nella vita tutto torno e allora? questi viene riconfermato dal primo consore come ministro della polizia e si mette subito al lavoro rinforzando il suo bicidiale apparato sa tutto controlla tutto ha il suo servizio spie a ogni livello e in ogni classe e ordine sociale ora questi cialtroncelli di catto comunisti che non sono nemmeno capaci di fare di mettere gli spioni da qualche parte cosa pretendano di essere uomini politici sono solo cialtroncelli di sagrestia andate a farvi tastare il culo dal vostro prete protettore anzi dal vostro assistente spirituale che vi ritroverete molto meglio tanto siete affini e qui c'è una cosa molto bella sa tutto controlla tutto ha il suo servizio spie a ogni livello e a ogni classe sociale anche la spendacione giosefinbo la parte gli svela notizie riservate sul marito in cambio di un bel po' di franchi e questa è la vera causa che ha spie il marito chi era Napoleone Giuseppina Giuseppina si questa è la vera ma scusa ma con tutti i soldi che aveva Napoleone doveva prendere soldi da fouché perché le puttane nascono puttane finiscono puttane non è che non è che io pensavo che era Napoleone che sfruttava lei all'inizio si e invece poi lei era bionivoca io do a te e tu dai a me lui quindi un amore profondo insomma profondissimo come la lunghezza del buce del culo allora Napoleone ben sapendo che questa donna era una grande intrigante se l'è sposata non facendo di fare carriera ha fatto carriera i salti nella carriera assolutamente con la sorca della moglie della cosiddetta moglie ma non è il primo e non sarà l'ultimo è vero cosa ce l'ha contato quel generale dei carabinieri cari amici andate a leggere il nostro video allora perché che cosa ha fatto quale porcate ha fatto Josephine ha fatto delle porcate che ha messo Napoleone contro lo Zar poco dopo che lo Zar era convenuto con Napoleone di fare il blocco contro l'Inghilterra il blocco navale il blocco navale sì quando lo Zar è venuto a sapere perché c'era Nicola II o no chi era? ho l'impressione che fosse Alessandro Alessandro doveva essere un Alessandro Alessandro II primo o II doveva essere un Alessandro all'epoca dunque un Romanov Alessandro probabilmente sì dopo la battaglia di Iena mi pare insomma praticamente loro si incontrarono che era 1805 1856 no dopo perché dopo c'è stata la spedizione 1811 in Russia in conseguenza di questo lo Zar viene a sapere che la Francia è il paese che dà il permesso alle navi inglesi di attraversare l'Europa dice ma come tu mi hai fatto fare un accordo a me che mi blocchi per fare il blocco all'Inghilterra e tu fai questo c'era un po' Napoleone che cade dalle nuvole era stata la Sosefina che per intrigli aveva lasciato passare delle navi inglesi che si erano spinte su sul Volga da quelle parti a San Pietroburgo erano entrati dal Baltico dentro dice siamo diciamo questo capitano dice ma c'è il blocco e dice noi abbiamo il permesso di Napoleone che gliela ha chiesto la moglie vabbè allora anche la spedizione gli dice il potere di Fouché cresce in modo vertiginoso così come le sue ricchezze persino l'attentato attenzione questo è importantissimo della Risenichese che è stato un grande attentato nel quale avrebbe dovuto perire il primo console famoso attentato del Risenichese il primo console che era Napoleone diciamo il primo console che sulle prime si scaglia contro il suo ministro finisce per diventare un trionfo della polizia che trova i responsabili cioè i monarchi gli Chouin cioè che aveva mandato probabilmente lui a fare l'attentato ma ti immagino no aveva voluto prendere due piccioni con la fava aveva messo la fava lui si ha saputo e poi due piccioni si sono contesi e lui poi l'ha chiappato tutti e due come è successo con Napoleone III che dice il povero mio concittadino Felice Orsini gli ha fatto l'attentato l'hanno beccato subito perché l'avevano organizzato loro 1858 1858 attentato Felice Orsini con la pistola l'ha attaccato no bombe bombe a mano ah non mi ricordo bombe a mano sì Felice Orsini ah no quello che stava sulla carrozza era era il prodromo della prima guerra mondiale ah certo quello era Bresci sì quello era Bresci quello è stato Bresci sì anche lui aveva incastrato aveva avuto dei mandanti sì sì con tutto che aveva perfettamente ragione certo certo che era un assassino Umberto I un autentico assassino e quindi lui aveva ragione però aveva anche lui i suoi mandanti che venivano da oltreoceno tra l'altro un grande storico che è morto un mesetto fa un paio di mesi a Rigopetacco ha scritto no beh sarà 3-4 mesi fa anche di più no vabbè mettiamo che sia non tanto tempo fa ma insomma un po' a Rigopetacco ha scritto un libro intitolato l'anarco che viene dall'America dove va a esaminare tutti i retroscene tutte le conoscenze di Gaetano Bresci attenzione stiamo alla fine quindi ripetiamo gli attentati cari amici non sono mai autentici perché c'è sempre qualcuno che lo sa prima degli altri no ma che lo organizza e quindi lo sa prima degli altri lo lascio organizzare noi abbiamo avuto gli anni di piombo e solo oggi la gente incomincia a capire che forse non erano proprio di piombo forse erano di pastella sono quelli del consolato gli anni più straordinari che l'avventura napoleonica quelli in cui il genio di Bonaparte si realizza con interesse sono perfettamente d'accordo doveva continuare su quella linea divorziare dalla moglie magari sposarsi lo stesso spararsi con una bella contadinolta di quelle toste no ma anche con la regina d'Austria va benissimo andava benissimo pure lei con una sissi del luogo era comunque una borbonica non fa niente ma faceva la comunione degli imperi centrali hai capito? tanto è vero che non l'ha fatta dopo se l'è poi sposata ma lui si era pure innamorato cronache che io ho letto con molto piacere perché come cari amici voi potete immaginare io sono un grande estimatore di quell'epoca è stata una grande epoca come allora ricordatevi l'epoca del consolato napoleonico equivale al secondo triunvirato non il primo che non conta un cazzo è il secondo triunvirato che mette in gioco menti sopraffine della grande politica mondiale secondo triunvirato e consolato napoleonico Fouché parte quale secondo triunvirato dirlo per la gente Ottaviano Marco Antonio e Lepido Lepido uno più bravo dell'altro sì Lepido che poi fa un volto a fine in secondo ordine però i due si accontrano questa è una cosa bella che anche le cose più preordinate e parenti perché Ottaviano era cognato di Marco Antonio perché Marco Antonio si era sposato la sorella e io avevo messo un po' di corna ma quello stiamo a vedere non esistevano all'epoca non esistevano ci sono tante parentele molto interessanti anche le 32 parentele dei 32 presidenti americani tutti liberamente eletti esattamente non è dinastia quella no sono tutti liberamente eletti casualmente sono parenti Fouché partecipa a quel periodo irripetibile anche se a qualche retropensiero tiene pronta una exit strategy tesse rapporti persino con i nemici del primo console mi pare ovvio questi sa che non può fidarsi di lui attenzione perché il gioco è molto fine io so che non mi posso fidare di te per cui ti lasci un mano libera tanto ti controllo quella è la grande logica del potere benché ne ammiri la bravura e prova a licenziarlo pur con tutti gli onori poi però lo deve richiamare al suo fianco perché lo aiuti a diventare imperatore cosa in cui Fouché si dimostra bilissimo a quel punto la curromanie di Napoleone diventa frenetica lo stato di guerra è continuo e lui comincia a fare errori spesso so sbillato dal ministro degli esteri Charles Maurice de Talleyrand nonché da Fouché stesso ecco i due che rientrano d'accordo il gatto e la volpe questi due uomini che si sono sempre odiati perché simili sotto molti aspetti tutti i due preti fanno allora alleanza cinici amorali corrotti disposti a tutto pur di sopravvivere sono capaci di guardare in faccia la realtà e chiamare le cose con il loro nome hanno capito che l'impero è piede di Avgilla e intendono affrettare la caduta dell'imperatore tramando con i suoi nemici la loro doppietta Talleyrand diciamo era ministro degli esteri ma non solo sotto Napoleone pure sotto Luigi XVI Luigi XVI Luigi XVI Luigi XVI 18 direi ma si è spento da solo era mezz'ora vai 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 dove l'hai detto che si è spento mi attacco prima leggo una frase prima sì la frase prima hanno capito che l'impero ai piedi di Avgilla intendono affrettare la caduta dell'imperatore tramando con i suoi nemici la loro doppiezza è ben nota non a caso i contemporanei li definiscono girouette banderuole è anche merito o demerito loro e dei loro finissimi tradimenti se l'avventura napoleonica si conclude all'Ipsia ci sono certo le effime le speranze dei cento giorni non sono pochi i cento giorni in ogni caso il fatto che Napoleone ritorna a Parigi rimette in piedi tutto l'apparato del bellico trova un esercito prontissimo a rispondere a rispondere meno quel delinquente di Grouchy che lo ha tradito nel momento in cui avrebbe dovuto aiutarlo ma per il resto l'esercito è risposto a morire anche Bernadotte c'era? Volk Bernadotte era contro Volk Bernadotte che era stato adottato apposta ti sto dicendo dal re come figlio del re di Svezia di Svezia sposa in pieno la strategia svedese e si mette contro Napoleone essendo stato una creatura di Napoleone non era neutrale la Svezia? assolutamente si mette contro fa parte della congiura cioè della coalizione lì c'era una questione di donne va bene ci sono certo le effime speranze dei cento giorni quando Fouchet torna a essere ministro ma nei cento giorni il traditore Napoleone quando arriva io posso essere anche nemico di un certo chirurgo per dire ma se io mi devo operare da chi vado? da quello che è bravo da quello che è bravo mica sto di antipatico è la stessa cosa Napoleone ha bisogno di Fouchet solo che Fouchet a quel punto ha già preso un'altra strada anche lì tuttavia egli trama e dopo Waterloo chiude qualsiasi porta al suo antico padrone per diventare lui stesso presidente del governo provvisorio oh ragazzi presidente del governo provvisorio ma poi viene rinsaurato la dinastica e quindi si attacca al cavolo e tira forte è in grado così di spedire Napoleone in pasto agli inglesi e sbarrare la strada al piccolo Napoleone II per favorire il ritorno dei Borboli notissima è la scena del luglio 1815 notte in cui i re di Gicida perché quelli che avevano firmato per la morte di Luigi XVI vennero chiamati i re di Gicidi notte in cui regi Gicida va a giurare fedeltà nelle mani di Luigi 18esimo fratello del ghigliottinato Luigi XVI accompagnato dall'ex vescovo apostata taleira il nuovo re però si dimostra più cinico perché lo chiama apostata perché ha apostatato lui ha buttato la tonaca alle ortiche poi le ortiche le ha presse al culo ma comunque ci vorrebbero dieci taleira al mondo il nuovo re però si dimostra più cinico dei suoi ministri e dopo essere tornato sul trono caccia prima Fouché e poi l'altro beh dice non ce la faccio il minimo no vabbè Luigi XVIII era uno stronzetto e non aveva la tempra e la presunzione di Napoleone che questi cavalli li voleva tenere comunque erano cavalli bradi e lui pensava che con un paio di stringhe li poteva tenere morsi e di morsi non ce l'ha fatta povero Napoleone erano troppo bradi capito allora questa gente qui sai che cosa mi fa pensare l'idiota l'idiota che se crede adesso va in giro per il mondo crede di essere Fouché lui se crede gli hanno fatto credere di tutto avevo un bambino ti conoscevo un bambino scemo che gli avevano fatto credere di essere Napoleone il nuovo re però si dimostra più cinico dei suoi ministri dopo essere tornato sul trono caccia prima Fouché e poi l'altro l'ex poliziotto di Francia morirà in esilio a Trieste un bel esilio ci vorrei stare anch'io in esilio a Trieste che non era certo l'isola d'Elba o men che meno l'isola di Sant'Elena abbandonato da quasi tutti non è vero perché lui il titolo di 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 conservato e tutte le ricchezze aveva commentato una volta Talleyrand Fouché disprezza gli uomini si vede che si è studiato bene noi disprezziamo Talleyrand era una mente fine si può dire di tutto di Talleyrand ma che non era un abile maneggiatore un grande vado a leggere cosa come si chiama quella grande scrittore di origine svizzera ma che è stato Constant Benjamin Constant che da di questi personaggi dei giudizi eccezionali Benjamin Constant si è salvato perché era svizzero e ha passato tutta l'epoca poi è diventato anche no ricordiamo che la svizzera ancora non esisteva come nazione ma era separata non era Francia si c'erano i vari principati ma la svizzera non esisteva si non c'erano ancora i cantoni neanche i cantoni comunque lui era straniero tant'è che poi una parte della svizzera è stata conquistata da Napoleone cazzo si è passato di mezzo è stata una rovina per gli svizzeri certo perché in quel periodo lui passò dalla svizzera per arrivare in Piemonte certo certo e fu una rovina per gli svizzeri e talvero che ci fu una maria 1897 ricordiamolo 1700 1797 scusa dal 97 al 99 due anni di tragedia per quelle popolazioni tanto è vero che fecero delle requisizioni sequestri sequestri eccetera eccetera e moltissima gente si suicidò e questa mi sembra che sia la conclusione più giusta bene sempre so long so long bene 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 grazie a tutti grazie a tutti